La cosa più importante per me quando trascorro le mie vacanze è sicuramente trovare un momento di relax, vivere delle emozioni nuove, visitare dei posti nuovi, conoscere le culture e godermi ovviamente le mie vacanze. Se dovessi avere un weekend libero, cosa che capita raramente, trascorro le mie vacanze in Svizzera, quello è ovvio, e soprattutto in Ticino, da dove vengo e dove vivo, perché il clima è fantastico, si può vivere veramente di tutto, ci sono dei posti magnifici e quindi qui mi trovo a casa e posso veramente trascorrere un momento di relax. A tutti coloro che vengono dall'estero, ai miei amici, sicuramente mostrerei della Svizzera prima di tutto il canton Ticino e in particolare la capitale, Melinzona, con i suoi tre castelli, il Castel Grande, il Castello di Montebello e il Castello di Sasso Corbaro, riconosciuti dall'UNESCO, dei posti particolari, affascinanti, bellissimi. Poi continuerei magari una passeggiata nel verde al Monte Tamaro, scendendo verso il Sottoceneri, degustazioni delle cantine con i vini buoni del Ticino e poi magari una serata al Grotto a degustare qualche specialità ticinese.